Da giugno a settembre, tra i protagonisti dell'estate di Roma e provincia ci saranno danza contemporanea e attacchi di core. Nessuno si spaventi però, la salute non c'entra. Stiamo parlando di una rassegna alla sua prima edizione che vanta un cartellone ricco di eventi artistici e culturali che si svolgerà in otto comuni del territorio. Roma, Frascati, Bracciano, Marino, Ladispoli, Cerveteri, Anzio e Formello. Organizzata dal coordinamento regionale per la danza, da cui il nome Core, e realizzata anche grazie al sostegno della provincia, questa manifestazione vuole promuovere con incontri, laboratori e spettacoli lo sviluppo e la valorizzazione della danza contemporanea. Un progetto che va controcorrente, visto che l'Italia resta il fananino di coda dell'Europa nel sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo. Attacchi di Core è un'iniziativa molto importante per la modalità che utilizza, cioè quella di coinvolgere gli artisti del luogo, di utilizzare anche spazi inediti come le palestre, di veramente di animare il territorio, quindi portare non solo spettacoli ma anche residenze e laboratori.